... ... ... ... ... Tirata fuori l'ampolla ... ... ... ... ... ... ... Grazie. Grazie, grazie. E poi doveva passare? No, sì. E poi doveva passare? 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 Eccoci, andiamo verso l'altare maggiore, dove... e l'ampolla sarà deposta nella teca. Vittoria, tutte le nuove. Seguite lei. Seguite loro. No, grazie. No, grazie. Ma non potete passare? Aspettatevi. No, grazie. Forza. Dovresti passare servizio? Non d'accordo. Eppure voi vi dovete passare a tutti. doveva passare a tutelare? Pagliare il posto di Napoli? Chi può avere le mani? Ma non è un po' qui. Paola, non è un po' qui. Ci sonopa... San Gennaro ha compiuto il miracolo, ecco, lo raccontiamo in diretta. La reliqua è uscita già assolutamente liquida questa mattina dalla Cassaporte. Grazie. 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 Grazie.